Il segreto, puntate da lunedì 12 e domenica 18 giugno 2017, anticipazioni settimanali, le anticipazioni sulle puntate dal 12 al 18 giugno 2017 ci dicono che Nicholas ritornerà a Pentevia e io senza Mariana, Carmelo riceverà la visita di Mencia che gli confesse al suo amore, i due decideranno di fidanzarsi ufficialmente, un gruppo di fanatici religiosi minaccerà e dagli dirà Candela, mentre Lucas scoprirà che, a causa della vicenda legata ai vaccini, potrebbe essere radiato dall'ordine dei medici. Hernando sta per essere giustiziato, ma Camilla riesce ad arrivare in tempo. Comunica al giudice di aver trovato donna Remedios e lo supplica di parlare con lei. Remedios si presenta dinanzi al giudice e racconta che ad appiccare l'incendio è stato Damian, il figlio di Hernando. A Miela Marga tutti festeggiano la guarigione dei bambini, ma questa gioia dura ben poco. Sui giornali, in prima pagina, si mette in dubbio l'operato dei Santa Cruz e di conseguenza il buon nome della famiglia. I Miragnar decidono di organizzare una gita al mare, ma Deloris non sembra molto entusiasta, in realtà pensa di non avere più l'età per concedersi certi lussi. Cristobal caccia dalla villa Mauricio. Francesca prova a prendere le difese del suo fedele servitore, ma non riesce ad ottenere molto in cambio. Donna Remedios racconta a giudice la verità sull'incendio. È stato Damian, il figlio di Hernando, ad appiccarlo dopo aver ucciso sua madre. Hernando racconta la stessa storia a Camila. Finalmente Donna Remedios incontra nuovamente Beatrizio, che in un primo momento non la ricorda ma poi, sentendo la ninna nanna, abbraccia tra le lacrime la sovecchia tata. Garrigue smette in chiaro a Donna Francesca che lui è l'unico uomo della villa e che Mauricio deve stare alla larga. Mettendosi d'accordo con Fè, il capomastro riesce a parlare con Francesca e informarla che il bambino dell'orfanotrofio è nelle mani di Lucas e Sol. Garrigue scopre che Mauricio si è intrufolato in casa e licenzia lui e Fè. Hernando viene scagionato e liberato e finalmente torna a casa da Beatrizio. Hernando viene dichiarato innocente e può tornare a casa. Cristobal minaccia di licenziare Mauricio e Fè perché Mauricio è entrato di nascosto alla villa. Monica comunica a Sol e Lucas che Marcos può essere operato agli occhi e che potrebbe recuperare la vista. Hernando caccia Elias dall'Osman Antialens. Elias giura vendetta. Nel frattempo, Camilla ritorna a casa e, quando sembra che tra i due coniugi si prospetti solo una vita felice, Hernando si blocca. Mattias vuole resistere e non lasciarsi schiacciare dal senso di colpa e per questo vuole riconquistare Beatrizio. Sol e Lucas partono per far operare Marcos, ma una nuova minaccia incombe su Mia e Lamarga, un gruppo di fanatici, supportato segretamente e anche economicamente da Francisca, irrompe alla tenuta per minacciare Santa Cruz per i loro crimini contro gli orfani. Eolalia svela a Francisca che Cristobal è uno dei pochi figli illegittimi di Salvador Castro sopravvissuti alla morte. Francisca, sconvolta dalla notizia, tenta di parlare con i suoi avvocati, ma Eolalia le mette i bastoni tra le ruote. All'Osman Antiale sembra finalmente regnare la felicità. Ernando e Camilla vivono e consumano il loro matrimonio, e Beatrizia è felice di aver ritrovato il padre e di avere di nuovo una madre. Le sciagure però, sono sempre in agguato, l'avvocato Alfredo, infatti, riporta ai signori Dos Kessas la notizia della morte violenta di Donna Remedios. Alfonso ed Emilia decidono di avvisare i Santa Cruz che l'aria che si respira in paese per colpa dei fanatici religiosi da poco giunti è molto pesante e che probabilmente queste persone daranno a Severo e famiglia del filo da torcere. Rosario è determinata ad andare a Murcia per cercare la figlia e il genero, ma poco prima di partire ecco che Nicholas torna a Puente e Viejo. Mariana però non c'è. La notizia dell'uccisione di Donna Remedios convolge a Ernando, il quale sospetta fortemente di Elias. Camilla e Ernando decidono con molta difficoltà di raccontare a Beatriz quanto accaduto, prima che lo faccia qualcun altro. Nicholas rifiuta di dare spiegazioni sul motivo per cui Mariana non è con lui. Cristobal scopre che Mauricio informa Raimundo di tutto ciò che accade alla villa e punisce il capomastro relegandolo a lavorare come semplice bracciante. Leoncio, d'accordo con Francisca, continua a diffamare i Santa Cruz e Lucas rischia di perdere la sua licenza di medico. Durante una discussione, Cristobal dà una violenta sberla a Francisca. Francisca, dolorante per il violento schiaffo ricevuto da Cristobal, capisce che Zile Eulalia e Cristobal non avranno nessuna pietà, ma lei non è disposta a cedere ed usa ogni mezzo per portare uno dei due dalla sua parte. Camilla e Ernando raccontano a Beatriz quanto accaduto a Donna Remedios, tacendole però i loro sospetti su Elias. Ricordando che sabato 17 giugno la sua opno va in onda, per concludere, vediamo cosa ci riserva la puntata di domenica 18 giugno, trasmessa in prima serata. Cristobal e Eulalia progettano di torturare Francisca e privarla di tutti i suoi beni, mentre Candela viene aggredita da Leoncio, leader del gruppo dei fanatici religiosi che ha preso di mira i Santa Cruz. Beatriz piange disperatamente la morte di Donna Remedios. Alfonso e Ramiro mettono le strette e Nicholas per sapere dove si trova Mariana. Fe cerca in tutti i modi di aiutare Francisca, e chiede ad Eulalia di assumere nuovamente Mauricio. I Santa Cruz rischiano di cadere in rovina a causa di una denuncia legata alla vicenda dei vaccini. Come vedete, ce n'è abbastanza per poter restare incollati davanti ai teleschermi col fiato in sospeso, non perdete dunque le prossime anticipazioni Il Segreto.